Poi mi rendo conto anche delle cose, che sono belle anche le torte a 18 piani, un giorno nella mia vita se mi sposerò voglio farmi una torta bellissima con tanti piani, tutte queste cose. Ti piacciono le torte all'americana decorate con pasta di zucchero, fiori? Mi piacciono solo quando leggevo Topolino, quelle che faceva Nonna Papera, quelle altissime, era Nonna Papera che le faceva, non mi ricordo. Nonna Papera faceva la crostata di mirtilli che metteva sul davanzale. Sì, però è quella alta così, quella AB9, quei fettoni giganteschi, che è un po' il discorso di un po' anche un giro per l'estero, che si vedono queste torte gigantesche, meravigliose, abnorme, grandissime, però preferisco le cose un po' più basse.